Salve ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, video velocissimo, video news proprio veloce veloce che faccio soprattutto perché tanti mi iscrivono, tanti vogliono parlare con me anche da vicino quindi con questo video potrò dire che avranno l'opportunità da parte loro però se vogliono incontrarmi perché dal 27 giugno al 25 luglio sarò in Italia e di preciso a Napoli per ferie quindi in questo mese di tempo, in questo periodo di tempo chi mi volesse incontrare a Napoli chi vuole organizzare qualcosa con me lo può fare e niente ci si vede se qualcuno vuole vedermi se qualcuno vuole parlarmi, vuole farmi qualche domanda, vuole, non lo so, vuole parlare della mia esperienza in Australia da vicino vuole incontrarmi per parlare di com'è la vita all'estero o semplicemente di conoscermi e queste cose qua va bene? Niente, un video informativo che magari credo, spero qualcuno faccia piacere e niente, ci vediamo alla prossima e niente, ci vediamo al prossimo video che sto organizzando una cosa molto carina che spero vi piacerà. A presto!